eccoci ragazzi benvenuti o bentornati sul canale alle mie spalle abbiamo questo casolare di campagna abbandonato ora faremo l'esplorazione non sappiamo cosa ci sia all'interno ma comunque tra poco lo scopriremo insieme prima di iniziare io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale youtube e anche al mio gruppo facebook che ho creato per quanto riguarda le esplorazioni urbex se volete iscrivere vi lascio qui sotto il link in descrizione ma ora non perdiamo tempo sigla ed iniziamo vai ciao 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 ciao